Io so una storia molto interessante, quando lei è arrivata a Kaunas una volta e ha portato un strumento di strade varie, Guarneri. Mi incontra questo direttore insieme con un uomo grossissimo e gli diceva, questo è da security, volevo parlare con te, prego andiamo in macchina, è una macchina blindata. Noi tramite canali di Interpol abbiamo ricevuto informazione che c'è qualcuno che è pagato per rubare. Questo Guarneri che costava diciamo? Non diciamo, si conta di milioni. Milioni, si. Allora, però noi abbiamo elaborato un piano di un'operazione. Allora, adesso andiamo a Kaunas, andiamo in polizia. Comunque, per farla breve, abbiamo deciso, perché io ho detto guarda, io non voglio portare con me questo violino. Abbiamo chiuso il violino sulla base di Aras. Sì, i nostri uomini. Sì, sì, qua non devo raccontare chi sono. Però abbiamo anche detto che va bene, perché mi hanno prestato uno strumento. Però se ci sono questi malviventi che vorrebbero effettuare questo crimine, loro non sapranno che non ce l'ho. Allora, comunque mi hanno dato dei guardi del corpo.